Musica Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura del nostro giornale parliamo della storia infinita dell'oncologico. Dopo i numerosi ritardi accumulati si parla di una riapertura parziale e sul caso si riaccende la polemica. Sentiamo. La delibera di comodato d'uso dell'immobile che ospiterà il nuovo oncologico è pronta, ma per la pubblicazione, fa sapere il direttore generale dell'ASR Bari, Nicola Pansini, bisognerà attendere la firma del direttore amministrativo prevista per lunedì. Con questo atto si scioglie il nodo burocratico che riguarda la proprietà attualmente in capo all'azienda sanitaria locale un ostacolo che non permette all'oncologico di risolvere la questione della voltura delle utenze e della richiesta di alcuni certificati mancanti. Per questo motivo si è optato per un comodato d'uso come soluzione temporanea in attesa del passaggio di proprietà. Con la delibera dunque l'ASR completa il lavoro di sua competenza. Questo non significa però una data certa per la riapertura dell'oncologico. Dopo i numerosi ritardi accumulati oggi si parla di una riapertura a singhiozzo. Il 15 settembre dovrebbero essere attivati l'acceleratore lineare, la TAC, la risonanza magnetica e forse anche l'angiotac. L'apertura totale invece è prevista per il 30 settembre ma si vocifera già di uno slittamento di qualche altra settimana. A fine mese si concluderà il corso di formazione dei dipendenti. Intanto nei prossimi giorni si riunirà nuovamente l'autority per l'oncologico varata a giugno per accelerare la soluzione di quella che ormai è stata definita la storia infinita dell'oncologico. Che questa sia la volta buona. Riflettori ancora puntati su San Girolamo dove sono in atto alcuni interventi predisposti dal Comune per combattere il degrado e garantire la sicurezza dei residenti a pochi giorni dall'incidente sul lungomare dove è stata investita la piccola Arianna. Sentiamo. Occhi puntati su San Girolamo dopo l'incidente di qualche giorno fa sul lungomare dove la piccola Arianna è stata investita. L'amministrazione comunale sta mettendo in atto una serie di interventi tampone per migliorare la vivibilità del quartiere in attesa del grande progetto di riqualificazione. Questa mattina sopra il luogo dei consiglieri incaricato alla mobilità Antonio De Caro e delegato alla Polizia Municipale Emanuele Martinelli per verificare gli interventi programmati in questi giorni. De Caro ha sottolineato la sinergia perfetta con la QP e lo IACP che sollecitate sono subito intervenute nelle operazioni di loro competenza. Su richiesta dei residenti sono state inoltre ripulite vaste aree dove sorgeranno parchi a servizio dei bambini della zona. Sono invece entrati in funzione sul lungomare rilevatori di velocità che segnalano il superamento del limite consentito di 50 km orari mentre nei prossimi giorni saranno posizionati dissuosori di velocità. Nel frattempo continua il presidio delle pattuglie della Polizia Municipale munite di telelaser e reso conto del sopralluogo dal consigliere Antonio De Caro. Gli enti hanno cominciato a fare i lavori che avevamo richiesti che erano stati indicati in una relazione dalla Polizia Municipale e quindi il Comune da parte sua attraverso l'AMIU e attraverso l'ufficio strade, l'ufficio traffico si è attivato per la pulizia delle aree di propria competenza la chiusura delle buche delle strade del lungomare la segnaletica orizzontale è colorata per far ridurre la velocità. Sono attivi anche i rilevatori di velocità e adesso aspettiamo che l'Istituto Autonomo Case Popolari completi i lavori all'interno del comprensorio. Si riaccende la querel sul teatro Petruzzelli. La famiglia proprietaria presenta un esposto alla Corte dei Conti contro la delibera del Comune che stanziava 500 mila euro per pareggiare il bilancio della fondazione. Secondo i messeni quei soldi erano destinati allo spettacolo e non potevano essere utilizzati in altro modo. Non va meglio la diatriba sulle poltrone. Il presidente della provincia, Francesco Scrittulli, risponde con un no grazie alla vicepresidenza dell'ente lirico per le troppe incognite sulla gestione. Ma il sindaco Emiliano replica. Venga a vedere le carte. Positivo il bilancio dell'attività svolta negli ultimi tempi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari a sostenerlo il generale di Corpo d'Armata, Maurizio Scoppa, oggi in visita nel capoluogo. Ce ne riferisce Mirko Cafaro. Affinare strategie di contrasto al crimine e realizzare contestualmente una più aderente capillare rete di servizi preventivi che consentano di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. Questi gli obiettivi della riunione operativa tenutasi questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari alla presenza del generale di Corpo d'Armata, Maurizio Scoppa, capo del Comando Interregionale, Ogaden. Un incontro nel quale l'alto ufficiale si è soffermato sull'intensa e positiva opera sul territorio da parte dell'arma affrontando le principali problematiche con cui si misurano ogni giorno i militari, come ha spiegato nella nostra intervista. Un incremento del numero dei servizi esterni con una piena aderenza o una incrementale aderenza alle esigenze della gente di vedersi assicurata quella sicurezza partecipata, quella sicurezza percepita di cui tanto si è teorizzato negli ultimi anni. Le sinergie fra le forze di polizia, dovunque hanno trovato riscontro, hanno sempre dato risultati positivi. Sicuramente anche in questa provincia, dove la situazione è degna di attenzione ma non è sicuramente da considerarsi allarmante, troverà una sua giusta applicazione e troverà i suoi validi risultati. Sono ancora tanti i punti oscuri nel giallo sull'omicidio del fotografo barese Mario Scanni. Continuano gli interrogatori mentre si cerca di ricostruire la sua ultima ora di vita. La traccia trovata nel negozio invece si è rivelata inutilizzabile, ma è sempre più accreditata l'ipotesi che Scanni conoscesse il suo assassino. Cambiamo argomento. Continuano le proteste dei precari della scuola su tagli e ritardi nelle nomine ma dell'Ufficio Scolastico Provinciale rassicurano. Rispetteremo le scadenze. Ce ne parla Silvia Dipinto. Sono giorni caldi questi per l'Ufficio Scolastico Provinciale che si trova a far fronte ad un inizio anno scolastico movimentato dalle proteste dei docenti e del personale tecnico-amministrativo a causa dei tagli delle quasi 1300 unità complessive e di possibili ritardi sulle nomine per le supplenze del personale ATA. Il dirigente Giovanni Lacoppola rassicura i tagli ci sono, ma proveremo ad evitare ritardi. Quest'anno ci sono meno precari che avranno la nomina. Mi auguro che la Regione continui a mettere a disposizione i famosi 25 milioni di euro e diano quindi la possibilità agli altri precari che non hanno da noi la nomina ad ottenere l'incarico annuale. Ci siamo impegnati per il 31 e il 31 completeremo. A risentire di eventuali scoperture potrebbero essere anche i tanti alunni disabili che recestitano del sostegno scolastico. Mi auguro che si riesca a dare il docente per quanto riguarda il rapporto uno a uno. Poi faremo dei saldi mortali per quanto riguarda i rimanenti che sono stati da noi individuati con un rapporto per 9 ore, per 12 ore. Con la circolare 59 il Ministero sollecita le scuole a mettersi in rete e gli uffici scolastici regionali a creare un osservatorio regionale proprio sulla disabilità a scuola. Come vi state attrezzando? Noi in Puglia abbiamo un ottimo direttore generale, la dottoressa Stellacci. Vi posso assicurare che si sta adoperando per attuare quanto il Ministero ci ha detto. Ma non ce la facciamo prima dell'inizio della scuola? Eh, appunto.